Mi stai battezzando Ma come ha fatto? Come hai fatto? Come hai fatto se sei un mago Bene Posso andare a fare del male Vai schiacciato Eccola eccola E' buona melosetto E' buona E' buonissimo Guarda E' buonissimo Siamo qui riuniti a celebrare la Sacra Messa Dalla pagina 12 del Vangelo della Moschea di Allah Akbar Un giorno, Arabo, che era il migliore amico di nostro profeta, Tabur Andò per le strade di un paesino che veniva chiamato La Schina La Schina era un paese lontano Era un paese di cui non si sapeva nulla Non si seppe più nulla Andate in pace Adesso prendete la carestia Venite qui tutti Allora, questa è la capo corretta che andremo a posizionare dentro la cesta Poi inizierà la mezza Allora, stanca che ha bevuto per tanti non dia Allora, un paese di 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 una Allora, un paese di 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 Per la fiera! VAL! No! No!